In quel tempo Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelle che vendevano, dicendo loro «Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Ogni giorno insegnava nel Tempio. I capi dei sacerdoti e gli iscrivi cercavano di farlo morire. E così anche i capi del popolo. Ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. Gesù si arrabbia dentro il Tempio. Condanna l'idolatria degli uomini, perché di idolatria si tratta. Dice la legge «Non ti farai idolo né a immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li serverai, perché io il Signore sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e quarta generazione». Ecco, Dio diventa cattivo, si arrabbia. Quando nel Tempio si riduce la gratuità del sacro al suo commercio, ecco, gli è stato fatto un atto idolatrico. Ad esempio, quando si pagano le messe. A quel punto ciascuno può dire «Quella è la mia messa, l'ho pagata io». E succede proprio così. Abbiamo fatto della messa un atto idolatrico. Ecco, di questo sì, Gesù si arrabbia. Cos'è l'idolo? L'idolo è la nostra idea di Dio. Ogni volta che chiudiamo Dio nei nostri schemi, diciamo che dovrebbe agire in un certo modo. Ogni volta che gli diamo contorni fatti a nostra misura, stiamo facendo un idolo. Siamo come degli stupidi che si fanno statuetto e dicono «Ecco Dio». Addirittura la vita spirituale può diventare idolatria. Se crediamo di essere noi a costruire, meritare, ad acquistare la salvezza con il nostro essere buoni, con le nostre opere, con i nostri meriti, sforzi, fatiche, fedeltà. Cos'è l'idolo? È Dio fatto a mia misura. Che mi dà ciò che chiedo. Questa è la comodità dell'idolo. Faccio il sacrificio e poi sono sicuro che Lui mi dà quello che chiedo. Ebbene, ogni volta che noi, per il nostro bisogno di rassicurarci, costruiamo da noi la nostra salvezza, invece di accoglierla come dono totalmente gratuito, entriamo in una dimensione idolatrica. E un Tempio fatto così non è più un Tempio di preghiera. Per questo Gesù si arrambia. E un Tempio fatto così non è più un Tempio di preghiera. E un Tempio fatto così non è più un Tempio di preghiera. E un Tempio fatto così non è più un Tempio di preghiera. E un Tempio fatto così non è più un Tempio.